L'accordo presentato e firmato in Pompamagna lo scorso 16 dicembre 2015, con tanto di passerella e firma davanti ai presenti dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, non è servito a nulla. Il supporto promesso al tribunale dalla regione, infatti, per potenziare l'organico degli uffici giudiziari, non ha prodotto risultati. Sono solo due le domande arrivate, una è stata revocata, l'altra è disponibile solo due giorni a settimana. La montagna ha portorito un topolino, parole del procuratore di Teramo, Antonio Guerriero, che deluso è tornato a parlare della cronica carenza di organico che affligge gli uffici giudiziari. Colpa di nessuno, il problema è che a seguito questo protocollo finora ci sono state poche domande, quindi l'invito che facciamo alle persone che sono abilitate a fare domande, di fare domande. Perché se non fanno domande noi non possiamo assumere e abbiamo bisogno fondamentale di personale perché gli impegni, gli affari stanno crescendo sempre di più, le esigenze dei cittadini crescono e noi a queste esigenze dei cittadini dobbiamo dare una risposta immediata. Abbiamo pochi cancellieri, molti sono anziani e stanno per andare in pensione, ha aggiunto il procuratore. In questo momento inoltre, come procura, siamo privi anche del dirigente amministrativo. Una situazione difficile, soprattutto in un momento nel quale, come sottolineato da Guerriero, soprattutto lungo la fascia costiera, ci sono situazioni che stanno degenerando, con fenomeni criminali che vanno controllati e combattuti. La collaborazione tra Regione, Tribunale e Procura era stata così motivata e presentata dal presidente D'Alfonso. Un'abbondanza, quella della Regione, 1.547 dipendenti, con un bisogno di formazione, di affinamento formativo che hanno i dipendenti della Regione, si combini con un'esigenza, con una mancanza, che è quella del Palazzo di Giustizia, in questo caso di Teramo, per fare in modo che si determini a favore degli uni una prestazione collaborativa professionale, a favore nostro un dato di formazione. In sostanza veniva riprodotto un modello che è già in applicazione all'Aquila, Vasto, Lanciano e Avezzano, che però con Teramo non ha funzionato.